La Juventus ha dimostrato ancora una volta di non avere paura e di saper rispondere alle difficoltà con grinta e determinazione. Nella sfida contro il Lipsia, i bianconeri hanno vinto 3-2 in una partita ricca di emozioni, controversie e colpi di scena. Tuttavia, nonostante la vittoria, un episodio scandaloso ha sollevato molte polemiche o. La partita non era iniziata nel migliore dei modi per la Juventus, che ha subito perso per infortunio due giocatori chiave, Bremer e González. Questi imprevisti sembravano mettere in difficoltà la squadra e infatti, dopo pochi minuti, il Lipsia è riuscito a portarsi in vantaggio. Nonostante lo svantaggio e le difficoltà, la Juventus non ha mollato. La risposta è arrivata da un grande Vlahovic, che con determinazione ha trovato il gol del pareggio, riportando fiducia e coraggio alla squadra. Ma è stato un altro episodio a diventare il centro della discussione. Un rigore netto su Vlahovic è stato incredibilmente negato dall'arbitro, nonostante le immagini siano chiare e non lasciano dubbi. Il VAR, ancora una volta, ha scelto di non intervenire. Le immagini mostrano chiaramente come Vlahovic sia stato atterrato in area di rigore, ma l'arbitro ha incredibilmente lasciato proseguire l'azione. Questo episodio ha suscitato l'indignazione di tifosi e commentatori, che si sono chiesti come sia possibile che, nonostante la tecnologia a disposizione, un rigore così evidente possa essere ignorato. L'amarezza per il rigore non assegnato è stata poi aggravata da un altro episodio controverso. Il portiere della Juventus è stato espulso per un contatto al limite dell'area, con la mano. Tuttavia, nonostante la situazione sembrasse complicarsi, la Juventus non si è arresa. Nella punizione successiva, un fallo di mano un'area di Douglas Luiz ha portato ad un rigore portando sul 2-1 il Lipsia. Vlahovic, in uno stato di forma straordinario, ha risposto immediatamente con un gol spettacolare, riportando il risultato sul 2-2. La Juventus, pur in inferiorità numerica, ha continuato a lottare e ha trovato il gol della vittoria grazie a un meraviglioso con Cei Sao, che ha segnato il 3-2 definitivo. Anche in questa occasione i bianconeri hanno dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a portare a casa tre punti fondamentali nonostante le avversità. Questa partita, oltre a mettere in evidenza il grande spirito della Juventus, ha sollevato importanti riflessioni sull'utilizzo del VAR. Le immagini del contatto su Vlahovic, ormai viste da tutti, non lasciano spazio a dubbi. Era un rigore netto. L'ennesimo episodio in cui la Juventus sembra essere stata penalizzata da decisioni arbitrali discutibili. Tuttavia, i bianconeri hanno saputo rispondere sul campo, dimostrando che, nonostante tutto, la squadra è in grado di superare anche gli ostacoli più difficili.